La conversazione intercettata dai carabinieri tra i due pesunti esponenti della cosca piromale di Gioia Tauro, in cui si commenta la decisione della cupola mafiosa di Reggio Calabria di condividere il progetto stragista dei Corlonesi di Tutorina, è destinata ad entrare nel processo di secondo grado, un drangheta stragista. La nuova prova è emersa dall'ordinanza Ibris che ha colpito le cosche di Gioia Tauro nei giorni scorsi. La retata della DDA di Reggio ha inferto giovedì l'ennesimo colpo al cuore alla dinastia mafiosa dei piromali di Gioia Tauro e ai ritrovati alleati More. L'intercettazione riguarda Giuseppe Ferraro, indagato in Ibris, e Francesco Adornato, non indagato ma per gli inquirenti un navigato esponente dell'endrangheta, che era stato già condannato al 416 bis, si intrattenevano in una conversazione telefonica circa l'alleanza tra mafia siciliana e drangheta calabrese. Il periodo era quello delle stragi degli anni 90. Un'intercettazione di interesse investigativo importante, un'analisi da parte degli inquirenti di Ibris che conduce ad alcune verità, e cioè quella che Pino Pino Malli aveva composto la commissione costituitesi per decidere se l'endrangheta calabrese avrebbe dovuto partecipare o meno alle stragi che furono compiute contro lo Stato. Lo ricordiamo, il processo d'appello a un drangheta stagista vede sul banco degli imputati il boss di Palermo Giuseppe Graviano e il referente delle cosche di Gioia Tauro Rocco Santo Filippone, ambe due accusati di essere stati mandanti degli agguati ai carabinieri, che si sono avuti nel 1993 e nel 1994 con l'uccisione dei brigadieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo. Grazie a tutti.